Uno non è che vuole parafrasare Churchill, però questo è un bilancio lacrime e sangue e soprattutto all'interno della maggioranza qualche malumore, qualche sgambetto lei lo teme in Consiglio Comunale? No, assolutamente no. Anzi, devo dire che la maggioranza ha partecipato sabato mattina in maniera compatta alla riunione, abbiamo condiviso un percorso che è un percorso difficile. Se vogliamo bene a questo comune, come vogliamo bene a questo comune, dobbiamo tutti quanti insieme fare un bilancio lacrime e sangue, ma questo lo saprevamo, non c'è nessun problema in maggioranza. Non teme in Consiglio Comunale Micheli, Campana, il gruppo misto? Queste sono cose più scritte sulla stampa che poi di fatto rispondendo a realtà. Noi abbiamo una maggioranza, una maggioranza solida, che si è dimostrata responsabile e consapevole delle difficoltà del secondo mandato. Lei ha dovuto tagliare, rivedere, correggere, eccetera. Quanto le è costato? Guardi, mi è costato tanto perché poi alla fine quando si è costretto anche a toccare un centesimo a qualsiasi livello è sempre un sacrificio. Però dobbiamo farlo tutti quanti insieme. Abbiamo chiesto ai dirigenti di condividere un percorso e devo dire che loro lo hanno condiviso con noi, per cui andremo a rivedere tutta una serie di situazioni relativamente alla struttura, a partire dai dirigenti e non soltanto. Intanto abbiamo tagliato una dirigenza, questo determinerà un risparmio economico anche sul fondo di cui tanto si parla. Andremo ad incidere sui fitti passivi, per cui entro dicembre tutti gli uffici comunali saranno all'interno degli spazi di nostra proprietà. Andremo ad incidere sui fitti attivi perché dobbiamo comunque fare velocemente dei bandi per valorizzare il nostro patrimonio. Abbiamo iniziato a tagliare per esempio anche l'indennità del segretario generale di quasi 13 mila euro. Insomma tutta una serie di provvedimenti che non vanno però a toccare, se non per alcune parti, i due punti di forza del nostro territorio, che saranno a scuole sociale.